Certo una volta Padre Terror raccontava dei misfatti senza utilizzare Ad ascoltarlo io divenni messaggero di parole positive senza Ma ritornando ai giorni nostri mi ravvido dei discorsi ancora ironici dei Per decifare dei messaggi che nascondono gli ostaggi di generazioni Per decifare dei messaggi che nascondono gli ostaggi di generazioni Per decifare dei messaggi che nascondono gli ostaggi di generazioni